Va bene perdere, però perdere in questo modo, Cristian, non è sicuramente una bella cosa. I tifosi, i 31 coraggiosi tifosi che sono venuti questa sera a Crotone, si aspettavano di vedere un'altra prova e un'altra squadra. Purtroppo questa è la realtà, la realtà è che oggi forse non siamo scesi in campo. Ogni volta che una squadra ci attacca prendiamo sempre gol, ma è un problema generale, un problema di tutta la squadra. Purtroppo se non ci mettiamo il sangue, il sudore, perché oggi non si è visto. Sì, giochiamo, giochichiamo, però non siamo mai cattivi, non siamo mai pericolosi, non diamo mai segni di pericolo all'avversario. Ci siamo svegliati soltanto gli ultimi 20 minuti, però così non va bene. Così non va bene, dobbiamo assolutamente cambiare registro, perché altrimenti qua andiamo giù. Io questo non lo accetto, perché siamo una squadra che può fare meglio. Da domani ci guardiamo tutti in faccia e vediamo cosa dobbiamo fare, perché così non si può andare avanti. Senti Cristian, nel primo tempo in particolare, ma anche all'inizio della ripresa, ti abbiamo visto un po' avulso dal gioco. Concordi? No, ho cercato di farmi vedere. Lì, purtroppo lo sapete, non è il mio gioco adatto, però mi adatto a tutto. Quello che dice il mister lo faccio con grande umiltà. Poi è normale che, lo sapete anche meglio di me, non sono proprio le mie caratteristiche, ma ci provo, do tutto. Poi non sembra che mi riesce bene, però ho cercato di farmi vedere lì, però non è andato bene. Poi gli ultimi 20 minuti, quando è cambiato, abbiamo dato qualcosa in più, penso che si è visto. Però, ripeto, non è questo il problema. Il problema è generale, il problema è che ci dobbiamo mettere il sangue, il sangue agli occhi, perché così non si va lontano. Il tuo è un duro atto di accusa nei confronti della squadra, ma perché questo Pescara arriva a Crotone e gioca una gara così brutta? Questo non lo so, perché noi l'abbiamo preparata in un altro modo la partita, ci siamo allenati benissimo questa settimana, ad alta intensità, però poi questo non si verifica mai in campo. Io non lo so, non lo so, però, ripeto, sarò ripetitivo, però dobbiamo cambiare atteggiamento. Anche perché la classifica inizia a far paura? Assolutamente, perché noi vogliamo provare a giocare, siamo partiti anche bene, penso, però prima prendiamo gollo, prendiamo sempre, non so, ci disuniamo, non riusciamo più a giocare. E questo non deve accadere, non abbiamo reazione. Dispiace perché, ripeto, possiamo fare molto di più, molto di più. Già da domani dobbiamo metterci, ripeto, guardarci in faccia, dirci le cose, andare avanti e preparare la partita con l'Ascoli, che sarà importantissima per noi. Partita con l'Ascoli, poi ci saranno all'orizzonte due trasferte consecutive, è un periodo particolarmente impegnativo e al tempo stesso delicato. Sì, assolutamente, sono tutte partite difficili da affrontare, però ci siamo detti anche prima allo spogliatoio che dobbiamo, tutti quanti dobbiamo fare, dobbiamo cercare di fare, non so, dobbiamo fare qualcosa in più, perché così non andiamo lontano. Sì, abbiamo, ora, pensiamo prima alla partita con l'Ascoli, che è quella più importante, e poi andiamo a fare queste altre due battaglie fuori, però già da domenica con l'Ascoli dobbiamo cercare di cambiare registro.